Prossima stagione di Contact Toons, qualche anticipazione? Tante novità, tanti nuovi cartoni animati che arriveranno e tanti nuovi argomenti suggeriti proprio dai nostri fan che ci seguono tutti i giorni. Cosa avete organizzato proprio per venire incontro alle esigenze di chi vi segue? Abbiamo seguito tutte le direttive che ci danno questi fans, abbiamo acquisito delle nuove serie televisive, abbiamo creato del merchandising, così anche un nuovo disco che racchiude le mie sigle dei cartoni animati. Anticipazioni sulle nuove serie? Sulle nuove serie c'è Starblazer, Piccola Dolce Anel, ci sarà anche Libro della Giungla e tanti altri cartoni animati sia degli anni Ottanta che alcuni nuovi che arriveranno in trasmissione. Vuole dare l'appuntamento a chi segue il suo programma qui in Calabria? Allora ci vediamo da lunedì al sabato alle 19.50 circa su Rete Calabria, canale 19 del Digitale Terrestre. Allora ci vediamo da lunedì al sabato alle 19.50 circa su Rete Calabria, canale 19.50 circa su Rete Calabria.